Fallo di Licksteiner sul capitano, calcio di rigore in favore della Roma L'ha abbracciato, ha detto che ha fatto, ha detto, manco poi gli ha levato la maglia Manco poi ha chiesto, se ce potevi pure fidanzare a Licksteiner su di lui Se ce potevi pure fidanzare, guarda, calcio di rigore Trova Emerson, il lancio ancora per lui, ancora mattino il cross che è finito in seguito la gara Go, 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 oh no, oh no, oh no, che hai fatto, oh no, che hai fatto? Ammazzi che go che hai fatto Anto, Antonio mio, voglio fare come il mister O'Key Stasera mi butto dentro Artevere Anto, stasera mi c'è butto Artevere Anto dopo sto gol 4-0 Antonio mio, 4-0 di testa, mamma mia che go che hai fatto Antonio mio, che go che hai fatto Anto In avanti il colpo di testa di Burbisso, attenzione, Milito, il palo, mamma mia il palo Quaresma, attenzione, Quaresma, il tiro, l'aria spinta da parte di Cassetti, vai Luca, è il palo Sì, godo, mamma come godo così il palo, che palo clamoroso che ha preso Milito, che godimento, che godimento 49 minuti e 20 secondi, il pannolone, me ci vuole il pannolone stasera, il pannolone Mamma mia che palo che ha preso Milito, come godo, uh come godo Ne sale Dodò, pronta il cross arretrato, svaldo il gol, maledizione, su deviazione E segna sempre questo, incredibile E adesso con il dito a fare di stare zitti Vai a esultare sotto il settore dell'Inter, è in sostanza, niente da fare Lina di fondo, ancora la freccia nera, il cross arretrato, capitano, capitano, capitano È il gol di Miralem, è il gol di Giotto, è il gol di Giotto, è il gol di Giotto adesso fallo segno Svaldo fai così Svaldo alza le braccia Svaldo fai così che abbiamo segnato il terzo gol ancora Salia Mitic cross in area di rigore colpo di testa di Panucci poi Nedved il gol ma chi doveva segnare ma chi doveva segnare questo con tiro al volo incredibile con tiro pure al volo mamma mia ma pensa chi doveva segnare al ventottesimo minuto eccolo il cross lo spiovente verso Lucatoni Burbissa di testa l'ha rispinto ancora un tiro Danielino 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 sta baciando praticamente tutto Danielino sta baciando praticamente tutto il Parastinchi sta baciando io ti voglio bacia tutto Danielino dopo dopo mi bacio tutto numero 5 4 3 2 1 la Roma è prima 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 in classifica la Roma è prima in classifica scavalca l'Inter 68 punti per la Roma e adesso mi vado a fare la trasfusione dei Modium perché non gliela faccio veramente più la Roma è prima quello che ha provato la Roma è prima